Ciao ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video ASMR, ho deciso che farò video ASMR ogni martedì verso le 10 e mezza 11 di sera, quindi direi di iniziare subito, per oggi ho preparato degli altri oggetti che mi piacciono un sacco, vi consiglio di guardare questo video con le cuffie, non tanto per il binaurale quanto per l'audio, perché devo ancora capire come regolarlo bene, sto bevendo il tè nella mia nuova tazza, che ve lo vorrei un sacco fare vedere, perché è bellissima, perché è super natalizia, l'ho presa oggi dai mercatini, quelli vintage di seconda mano, e tra l'altro ho fatto delle storie su Instagram e in tante, mi avete chiesto dove si trova questo magico posto, ed è in via Bobbio, e sono molto contenta che comunque vi piaccia quando faccio questo genere di storie, non so se si vede ma è ancora fumante, è caldissimo, comunque spero che stiate bene e che questo dicembre sia iniziato nel migliore dei modi, e vi vorrei fare vedere, dunque a parte questa tazza sulla quale farò del tapping, vi vorrei fare vedere degli altri oggetti di oggi, ossia questa piantina, che mi piace un sacco, il tipo di tapping che fa, poi questa conchiglia, che è una conchiglia che ho preso su una spiaggia a Calabrandinchi, quando io e Simo siamo stati quest'estate in Sardegna, e a parte da essere un bellissimo ricordo, è molto bella perché, non lo so, è carina, le conchiglie piacciono un sacco, e poi mi piace anche, come lei, come tapping, poi questa è la preview, poi ci sarà questo oggetto, al quale io sono estremamente affezionata, perché, semplicemente, era di mio papà, lui fumava, e quindi questo era, me lo ricordo, che ci cava sempre la sigaretta qua dentro, e per quanto sia tipo odio, amore, è comunque un ricordo di papà, che, nel senso, ero bambina, me lo ricordo, e quindi ci sono affezionata, poi anche lui si presta molto bene, penso che abbiate capito che il tapping è uno degli suoni preferiti, e poi ultima cosa, ma non meno importante, in realtà non volevo inserirlo in questo video, però mi è arrivata questa scatola non so se lo conoscete, ma è una cosa veramente bellissima, in pratica si possono stampare delle foto in formato polaroid, sia grosse che piccole, volendo esagerando, per 70 foto, una trentina di euro al massimo, che 70 foto, vi giuro che sono tantissime, e è un gift, nel senso che me l'hanno mandato, e in realtà appunto ve lo volevo fare vedere in un vlog, in un altro video, solo che fa un suono veramente molto bello e dentro ci sono tutte le foto che sono bellissime, fate conto che queste sono una cinquantina, forse neanche, perché non ne avevo così tante da stampare questa appunto è la Vicky Box, che contiene un massimo di 70 foto, tutte queste che vedete saranno una quarantina, forse cinquanta, e sono bellissime a parte che hanno un'ottima qualità, io vorrei che voi riuscisse a vederle ed è bellissimo perché ho potuto stampare anche delle foto, che avevo appunto sul telefono, di magari mio papà, di mia nonna, di mia mamma, insomma ne ho stampate un sacco, e poi vi farò vedere come elemento, tra l'altro se volete, già che ci siamo, lo dico qui, c'è un codice, vi scrivo tutto quanto, tutte le informazioni per le informazioni nell'info box per chi fosse incuriosito e è anche secondo me un bellissimo regalo di Natale per adesso che sta per arrivare le feste poi vorrei anche fare un po' di tapping su questo libro che vi consiglio peraltro di leggere, è L'amante di Lady Shatterley che è bellissimo io l'ho letto un sacco di volte ed è un romanzo del 1920 e qualcosa e insomma è veramente molto bello poi a fine video ci saranno come al solito gli hand movements che sono i miei preferiti in assoluto un sacco di voi mi hanno consigliato di fare roleplay solo che non so non è un tipo di video ASMR che mi piace molto da guardare se devo dirvi la verità non so come mai preferisco quelli non parlati fatemi sapere se vi potrebbe interessare un tipo di video del genere o se no quelli appunto con i trigger normale fatemi sapere voi oggi da questo negozietto dove ho, negozietto sono enorme però in questo negozio dove ho preso questa tazza ne ho presa anche un'altra però io so che non si vede bene però lui è tipo un po' pazzo di nere ed è carinissimo e le ho prese per me e Simo e ho preso anche un'altra tazza che ho trovato sulla quale c'è scritto mamma che la voglio regalare a mia mamma e poi ho preso anche delle terrine nelle quali poter mettere il cibo perché mi mancavano e ho preso anche una pentola per fare il utuku ossia il ragù in genovese e mi piacciono un sacco a me quelle cose nel senso un po' più retro se vogliamo oggi mentre stavo venendo a casa dopo essere stata in questo posto non lo so stavo pensando a quanto sia cambiata crescendo sotto questo punto di vista nel senso che quando ero un po' più piccina ho avuto le mie fasi diciamo ho avuto la fase del shabby chic dove avevo tutto il stile provenzale rosa cuoricini non lo so ho avuto il periodo frufru dove era tutto fiocco rosa ovunque merletti pizzo cristallo lo so poi ho avuto il periodo del bianco e nero e anche se io in realtà verso gli undici anni il rosa per me era bandito come colore e mi piacevano le cose minimali amavo il grigio e crescendo adesso sono ritornata al grigio anche se a posteriori penso che in futuro se ridipingerò i muri di casa li farò verdone verde chiaro verde salvia chiaro e spero che venga bene il microfono perché ho collegato le cuffie alla canon quindi teoricamente dovrebbe essere lui il microfono oggi e dicevo che crescendo sono diventata un po' di più che mi piacciono le cose di una volta le pentole di una volta le cose fatte come si facevano a volta non lo so diciamo che sì la tecnologia per quello che serve però mi piacerebbe riservare almeno nella mia vita non so se capite cosa intendo dire non parlo soltanto del modo di vestire parlo proprio in generale di non lo so cucinare le cose per davvero però anziché magari prendere quelle prefatte per far prima crescendo appunto anziché le cose minimali mi piacciono quelle un po' più da nonna tra virgolette passatevi il termine non so se lo sapete ma se lasciate la bustina per troppo tempo il tè diventa amaro cosa che volevo dirvi avrei voluto fare un vlogmas a settimana solo che non credo che ci riuscirò nel senso che ho provato a farlo solo che non è uscito perché non mi piaceva neanche come stava venendo non so come dire non mi piaceva tantissimo quindi visto che più che altro perché qua Genova è un periodo che piove sempre quindi a meno che non sia veramente necessario non sto ad uscire di casa e quindi non avevo qualcosa di particolare da fare a parte appunto girare video, montarli editarli e solo che poi già a parte quello simulisco a casa di base non era molto chissà che cosa da vedere insomma quindi alla fine ho preferito, cioè ho optato per l'idea di fare in tutto dicembre due vlogmas uno l'otto e uno il 22 di modo che possa raccogliere un po' più di materiale mettiamola così comunque tra poco vi giuro che mi chiudo la bocca e vi lascio soltanto ai suoni poi modificherò anche il banner così ci scriverò i video che farò a settimana e niente basta io adesso appunto la bocca e vi lascio ai suoni grazie a tutti 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 comunque investirò in qualcosina e prenderò un microfono almeno così almeno quando farò questi video l'audio sarà un po' meglio di adesso non sa Simone di là che quando faccio questi video mi prende sempre in giro lui li chiama il video aspro e mi fa morire grazie Grazie a tutti. Fatemi sapere se vi farebbe piacere vedere le cose di cui vi parlavo che ho comprato e sopra magari ci potrei fare dei suoni. Vi volevo chiedere una cosa. Qual è il vostro gusto del tè preferito? Perché io adoro quello classico, il breakfast di... mi si sta andando in una gamba, scusa. Già alla Nessi piace quello al bergamotto che però mi fa venire nausea purtroppo. Mi piace un sacco anche quello alla vaniglia e con le folite rosse. Però di solito prendo quelli della Twinings o Twinings, non so come si dica. Comunque volevo chiedere a voi qual è il vostro tè preferito, così per farvi un'idea, magari per provare qualcosa di nuovo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.